Appena senti la parola teletrasporto, ti viene in mente Star Trek e quanto sia affascinante spostarsi da un punto all'altro dell'universo. Hai mai pensato alla possibilità che tutto questo diventi reale? Il teletrasporto ha segnato profondamente l'immaginario collettivo, essendo un tema molto ricorrente nelle opere di fantascienza. Racconti, film e serie tv hanno mostrato le potenzialità, ma anche i pericoli di questa tecnologia. In La Mosca, ad esempio, le sperimentazioni sul teletrasporto prendevano una svolta piuttosto tenebrosa e potremmo citare numerosi altri esempi che hanno stimolato curiosità ed entusiasmo sul tema. Il concetto guadagna popolarità nel ventesimo secolo, agli esordi della letteratura di fantascienza. Autori come Isaac Asimov e Philip K. Dick, infatti, giocano con l'idea di spostarsi all'istante da un luogo all'altro, offrendoci visioni entusiasmanti ed inquietanti del futuro. Nel film, il teletrasporto è spesso rappresentato come una macchina o una piattaforma. I personaggi entrano e vengono smaterializzati per poi materializzarsi altrove. Proprio questo tipo di rappresentazioni cinematografiche hanno contribuito a una visione quasi magica del teletrasporto. Ma c'è qualcosa di vero? Quanto di questa fantasia si basa sulla realtà scientifica e quanto è pure invenzione? La fantascienza, precisiamo, ha un grande potere. Prende concetti scientifici piuttosto complessi e li rende accessibili, spesso esagerando o semplificando per esigenze di trama. Tuttavia, ha anche il potere di ispirare nuove idee. Molte delle tecnologie moderne, strumenti che spesso diamo per scontati, come tablet o videochiamate, un tempo erano solo fantasie proiettate sul grande schermo. E quindi, tornando al nostro argomento, il teletrasporto che vediamo nei film è possibile? O è solo un'illusione creata per intrattenerci? Prima di rispondere, vediamo cosa dice la scienza al riguardo. E ti garantisco, potresti rimanere sorpreso. Lasciamo alle spalle film e libri ed immergiamoci nell'universo della meccanica quantistica. Qui l'idea di teletrasporto non è fantasia, ma una realtà scientifica. E allora, cerchiamo di capire cosa significa veramente teletrasporto in questo campo. La meccanica quantistica, innanzitutto, è una branca della fisica che studia il comportamento delle particelle a livello atomico e subatomico. Per questo motivo ci offre una visione della realtà completamente diversa da quella del mondo macroscopico a cui siamo abituati. Tra gli studi più straordinari di questa branca c'è il fenomeno dell'entanglement, chiamato anche intreccio quantistico. Cos'è? Immagina due particelle, che chiameremo A e B, che vengono create insieme e che condividono un legame speciale. Anche se le separiamo e le allontaniamo di chilometri, un cambiamento in A avrà un effetto immediato su B e viceversa. Questa connessione istantanea, che sembra sfidare le leggi della fisica classica e persino la velocità della luce, è una delle scoperte più rivoluzionari del ventesimo secolo. Qui entra in scena il teletrasporto. Utilizzando il principio dell'intreccio, i fisici sono riusciti a teletrasportare informazioni tra particelle. Ora è importante sottolineare che non stiamo parlando di teletrasportare materia nel senso tradizionale. Non si tratta, cioè, di prendere un oggetto e farlo apparire altrove. Piuttosto è come se copiassimo l'informazione propria di una particella e la trasferissimo a un'altra, cancellando l'originale. La prima in questo processo. Questa scoperta, supportata dall'efficacia di dimostrazioni in laboratorio con particelle come i fotoni, ha un potenziale immenso. Ma, come in ogni progresso scientifico, restano domande a cui rispondere. Ad esempio, come possiamo sfruttare questa conoscenza per gli sviluppi tecnologici? Questo principio potrà applicarsi a oggetti più grandi, ad esempio esseri umani? Ora potrei chiederti, a che punto siamo con il teletrasporto? Bene, il teletrasporto quantistico, anche se è ancora agli albori, ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Il primo successo sperimentale si registra negli anni 90. Da allora le distanze alle quali siamo riusciti a teletrasportare informazioni sono cresciute in modo esponenziale. Per farti un'idea, nel 2012 un gruppo di ricercatori è riuscito a teletrasportare informazioni da fotoni su una distanza di ben 143 chilometri, tra due isole delle Canarie. È come se avessimo teletrasportato delle informazioni dalla cima di una montagna fino alla sua base, superando ostacoli atmosferici e interferenze di ogni tipo. 143 chilometri! In termini assoluti potrebbe sembrare una distanza tutto sommato ridicola, ma se consideriamo che tutto questo avviene a un livello subatomico, dove le particelle sono incredibilmente sensibili a qualsiasi tipo di disturbo, capiamo che è una vera e propria impresa. Si tratta di un salto gigantesco se lo confrontiamo con i primi esperimenti. Tuttavia è essenziale capire che al netto di questi progressi rimangono molti ostacoli da superare, ad esempio garantire la coerenza delle particelle e l'accuratezza del teletrasporto su distanze più lunghe, un enigma a cui i ricercatori stanno ancora lavorando. La realizzazione di un teletrasporto alla Star Trek potrà anche essere lontana, ma ogni piccolo passo ci avvicina a una comprensione più profonda del fenomeno. E chissà, una nuova scoperta potrebbe essere dietro l'angolo. Ora, con tutto l'entusiasmo che circonda il teletrasporto quantistico e i progressi che abbiamo discusso, è fondamentale guardare anche all'altro lato della medaglia. Prima di tutto rimane il problema di scala. Anche se siamo riusciti a teletrasportare informazioni tra particelle come i fotoni, fare lo stesso con oggetti di dimensioni macroscopiche, come un essere umano, ma anche un singolo atomo, è un compito molto più complesso. La complessità poi cresce esponenzialmente con la dimensione dell'oggetto, rendendo il teletrasporto di elementi più grandi un obiettivo ancora lontano. Poi c'è il problema della fedeltà del teletrasporto. Anche se possiamo teletrasportare informazioni, garantire che queste informazioni vengano trasferite senza alterazioni, rimane un'incognita. Qualsiasi minima variazione potrebbe avere conseguenze imprevedibili, specialmente se in futuro pensassimo di teletrasportare qualcosa di più complesso di una singola particella. Un altro ostacolo significativo è l'ambiente. Le particelle quantistiche sono estremamente sensibili alle interferenze. Fattori come radiazioni, temperature e persino vibrazioni possono influenzare l'esito del teletrasporto. Questo significa che dobbiamo trovare dei modi per proteggere e isolare le particelle durante il processo, assicurandoci che l'ambiente circostante non comprometta l'operazione. Per ultimo, una questione fondamentale, spesso dibattuta. Anche se riuscissimo a teletrasportare un essere umano, cosa succederebbe alla sua coscienza? Sarebbe la stessa persona prima e dopo il teletrasporto? Queste questioni profonde toccano non solo la fisica, ma anche la filosofia, l'etica e la teoria della mente. È chiaro che ci troviamo di fronte a un percorso intricato, ma come la storia della scienza insegna, gli ostacoli sono fatti per essere superati. Anche se le sfide sono enormi, la promessa del teletrasporto mantiene viva la curiosità e la determinazione dei ricercatori. Ogni piccolo passo conta in questo campo. Ma torniamo per un momento all'intrattenimento e alla cultura popolare. Che tanto spazio hanno dato al teletrasporto? La rappresentazione dei media va bene oltre i classici della fantascienza. Il teletrasporto è diventato un simbolo utilizzato per raccontare storie di avventura, pericolo, innovazione e persino esistenza. Prendi ad esempio Harry Potter. Qui la capacità di apparire e sparire all'istante è una competenza molto ambita dai maghi. Oppure film come Jumper, dove il teletrasporto viene utilizzato come mezzo di fuga ed esplorazione, ma anche come fonte di conflitto. Queste rappresentazioni, anche se lontane dalla realtà scientifica, sono una finestra sulle nostre speranze, paure e aspirazioni. Il teletrasporto in queste storie non è solo un mezzo per spostarsi da un punto all'altro. Rappresenta la libertà, l'infinito potenziale umano e a volte le complesse questioni morali ed etiche che emergono quando si gioca con le leggi della natura. Anche se queste storie sembrano solo fonte di intrattenimento, hanno un impatto reale sul modo in cui percepiamo e immaginiamo il futuro. Quante volte, dopo aver visto un film o letto un libro, hai pensato a come sarebbe la tua vita se una particolare tecnologia diventasse realtà? Queste storie alimentano la nostra curiosità. E poi non dimentichiamo il ruolo della cultura popolare nell'ispirare progressi scientifici. Molti ricercatori ammettono di aver intrapreso la loro carriera perché affascinati da storie di fantascienza o da film che li hanno colpiti sin da bambini. E quindi è giusto rendere omaggio alle storie che ci hanno fatto sognare. Abbiamo fatto un viaggio incredibile attraverso l'idea del teletrasporto, dall'immaginazione fino alla meccanica quantistica. Abbiamo visto come il teletrasporto, un tempo confinato alle pagine dei romanzi, abbia ora radici nella realtà grazie alla fisica. L'intreccio quantistico, gli esperimenti e le sfide che attendono i ricercatori sono solo alcuni dei punti che abbiamo scoperto in questo percorso. Se sei interessato ad approfondire l'argomento, guarda i libri che ti ho lasciato in descrizione. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti al canale, condividi il video con gli amici e lascia un commento con le tue riflessioni. La tua partecipazione diffonde conoscenza e fa crescere la community!